Un film da farti vedere stasera! Adrenalina! Ehi! C'è un film spettacolare! Spettacolare! E i soliti film che mi fai vedere tu spettacolare! Quelli che l'è! Spare pure il botto! Ci metti uno starlo! Quando fra lì ci spara nel botto! Renate, ti devi calmare! Io mi ha già calmato! Tu stai facendo Capodanno in New York, stai facendo e io mi ha già calmato! No, io sto parlando perché tu stai facendo un sacco di giri, hai capito? Come si chiama sto film? Oscuro! Oscuro! Giustamente! Un altro film roto! Francesco! E che fai prendere il tuo film? Ah niente! Io lo sapevo! Più scemo di questo! C'ho domande pure! C'è un problema! Ma buco! Lei non lo mette! Io lo sai! Ma che ce la sace! Francesco! Io volevo solo sapere! Quando tu vedi questi film, che piglia? Che piglia hai da questi film? Oscuro! Che piglia! Suono! Pum! E tu scudo! Francesco! Non lo faccio più! Immaginisti tutta la serie Netflix, tutti i film possibili e immaginabili! Consigliami tu un film! Però Francesco! Questa volta fa la persona seria! Un film che anche dà il titolo! Tu lo guardi! Non fa la mano così! Un film che pure dà il titolo! Quando senti il titolo dici! Che bello! Eh! Non ho tempo di mandare! Io so! Francesco! Oh! Questo è un titolo che tene pure senso! No no! Magari a fare i bottoni e te! No! Parla con questo film! Ma quello? Come quello è il film? Preno! Renato! Eh? No ho tempo! Devo andare! Puglia ma faccio delle comande! Grazie a tutti